Siamo molto onorati di aver ricevuto questo premio parte della tredicesima edizione di Marmomac. Il nostro team di Arup Ingegneri, Arup Sociates Architetti, ha lavorato a questo progetto della scuola del loto bianco alla DAC per 15 anni, quindi per noi ricevere questo premio è un riconoscimento importante a tanti anni di lavoro e anche a un progetto che vuole sostenere una cultura sostenibile in zone remote del mondo. L'utilizzo della pietra è fondamentale per questo progetto vincitore, ma anche in tantissimi altri progetti che abbiamo sviluppato ad Arup Sociates. È importante perché la pietra è un materiale naturale e ha una valenza spesso molto forte del luogo, per cui tra l'utilizzare la pietra o il mattone o materiali naturali e materiali artificiali tendiamo sempre a scegliere materiali che siano più naturali possibili, a basso impatto ambientale, che siano estratti in maniera sostenibile e che possano relazionarsi nel contesto del luogo in una maniera più forte e più consistente possibile. Il premio dell'architettura in pietra ha già una reputazione altissima e penso che altri eventi come questo all'interno di Marmoma che possano aiutare il premio a raggiungere una audience più internazionale. Il fatto che sono stati invitati molti architetti internazionali e designers da tutto il mondo ovviamente aiutano a far crescere la reputazione di questo premio e penso che negli anni futuri potremo vederlo semplicemente crescere sempre di più. Grazie a tutti! Grazie.